Aumentano i ricoveri e anche i numeri dei positivi della provincia nelle ultime 24 ore, una nuova impennata di contagi. 311 sono i pazienti positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia, dei quali 87 a Caltanissetta, 86 a Gela, 39 a San Cataldo, 31 a Niscemi e tutti gli altri distribuiti per i vari paesi della provincia. Per ciò che riguarda i ricoveri ospedalieri, fermo restando che il reparto di terapia intensiva resta chiuso, sono 46 tra in più i ricoverati nei reparti di malattie infettive e sono in tutto 2.887 i positivi in quarantena domiciliare. 632 non vuole scendere a questo punto la cifra dei positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 6 sono i ricoverati, mentre sono 704 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, sono 9 i positivi ricoverati nel reparto di malattie infettive, un numero consistente di positivi anche a San Cataldo, sono 369 in quarantena domiciliare e poi l'altro paese della provincia con numeri importanti e Niscemi con 290 positivi.